Andiamo con la pubblicità, eccoci qua con la pizzeria Trattoria al Museo da Mario in Ghiascoli al numero 18, tre anni che è aperta una pizzeria veramente fantastica, però vicino alla sinagoga ecco la signora Postanza e anche il grandissimo Mario qua abbiamo tantissima gente che vengono a mangiare la pizza non ci sono problemi, qua potete telefonare, prenotare qua abbiamo la figlia, eccolo lì, abbiamo anche il figlio e abbiamo il grandissimo Mario, un grande pizzaiolo, grandissimo poi un grande pasticcere, lavorava da Paulino, una cosa veramente grande poi in Slovenia, però ha voluto aprire a Gorizia una pizzeria eccoci qua, guardate quanta gente che c'è a mangiare queste pizze potete ordinare qualsiasi pizza, non ci sono problemi ecco qua la signora Postanza che sta lavorando veramente alla grande e diciamolo, vi ricordo sempre, eccolo qua Mario che gli ha dato un bacio veramente potentissimo per la signora Costanza e vi ricordo sempre pizzeria, pizzeria al museo da Mario vi asco il numero 18 a Gorizia